tutti fanno il discorso di fine anno fine 2018 io faccio il discorso di inizio 2019 perché voglio essere sempre contro tendenza no se vogliamo però giustamente tutti fanno il discorso di fine anno e poi vai a vedere su internet che il 2019 ti porti tanti soldi tanto amore tanto tanta felicità voi pensate che quattro fuochi artificiali un brindisi con uno sfumante di terza categoria in un locale improbabile possano in qualche modo portarvi un cambiamento radicale nella vostra sporca e inutile insignificante vita che lo scocco di un di un anno virtuale che non sappiamo neanche in che anno stiamo abbiamo per convenzione inventato questo capodanno possa in qualche modo portarvi delle novità beh ve lo dico io come funziona quando siamo nel grembo materno noi abbiamo un dna che pensa a formare il nostro corpo il nostro cervello quando usciamo dal grembo materno il nostro cervello è già bello che tra virgolette impostato non formato ma impostato il nostro cervello è quello che ci dà l'intelligenza delle pseudo scelte queste pseudo scelte che noi facciamo perché le chiamo pseudo scelte perché se tu nasci pazzo farai scelte da pazzo involontariamente dalla tua volontà se è praticamente isolato tutto dalla tua volontà non esiste la volontà se tu sei pazzo volontà o contro volontà farei scelte da pazzo se tu sei intelligente farei scelte da intelligente quindi già implichiamo il fatto di nascere intelligente o pazzo questo è già determinante per la vita di una persona che è appena uscita da un grembo materno è determinante perché tu quando comincerai a crescere comincerai a fare le tue scelte apparenti quindi le cose conseguenzialità della tua intelligenza sarà una conseguenzialità di quello che è la tua architettura mentale e quello determinerà comincerà a determinare la tua vita la qualità della tua vita il tuo modo di vivere dove sei collocato come ti muovi che cosa fai per andare avanti per cui augurare buon 2019 sotto già questo preambolo è irrilevante è irrilevante perché non sarà ripeto certo un brindisi e quattro fuochi d'artificio che possono cambiare la tua vita la tua vita teoricamente la puoi cambiare soltanto facendo delle scelte diverse ma il problema sta che la scelta non esiste la scelta e non è altro che la conseguenza del tuo cervello quindi ipoteticamente se tu sei pazzo puoi cercare di frequentare quelli intelligenti per qualche anno ma poi quando quelli intelligenti scoprono che tu sei pazzo ti ributtano nel tuo livello è come come i leoni che stanno con i leoni gli squali stanno con gli squali le formiche stanno con le formiche tutti dicono è ma gli opposti si attraggono sì perché tu vedi nel tuo opposto la possibilità di cambiare ma poi alla fine i simili vanno con i propri simili tu provi a cambiare ma la tua natura ti riporta tra gli squali tra le formiche tra i leoni tra i tuoi simili perché sei nato così sei nato così vi ricordate dal grembo materno la tua intelligenza le tue scelte in base alla tua intelligenza se sei pazzo prendi una strada se sei intelligente ne prendi un'altra ma questa è la pura dura semplice verità realtà tu se sei una mosca puoi volare un po sul miele puoi volare un po sui fiori ma gira gira rigira sempre sulla merda andrei a finire perché sei nato così sei nato mosca e quindi questa è la regola fondamentale che chi nasce rotondo non muore quadrato loro vorrebbero illuderci con la favoletta delle scelte che noi possiamo scegliere ti auguro un grandissimo 2019 pieno di fortuna ma che cosa ma cosa la conseguenzialità degli eventi è già scritta in base alla configurazione mentale con cui tu sei uscito dal grembo materno e soprattutto anche da dove ti trovi nel momento in cui sei uscito con chi ti trovi con tutta una serie di collegamenti ma poi alla fine andando avanti le tue pseudo scelte ti inquadreranno nel posto dove devi stare cioè inizialmente puoi trovarti anche in posti particolari ma alla fine le tue scelte faranno la tua vita le tue pseudo scelte ecco scusate ma dimentico sempre di mettere questa questa parolina pseudo scelte perché la scelta è un'illusione è un'illusione non puoi far scegliere a un pazzo una soluzione intelligente perché non ce la fa è come chiedere al proprio asino chiedi al tuo asino di correre di più più veloce del tuo cavallo ma la colpa non è né dell'asino né della colpa è la tua che pretendi una cosa del genere allora questo è il concetto quindi prima o poi i simili andranno riaggregati con i propri simili squali con squali leoni con leoni formiche con formiche puttane con i puttanieri e questa la realtà di fatto non c'è scampo non c'è scampo allora io vi lascio con questo augurio buon 2019 a tutti che vi porti tanta felicità tanti soldi e tanta fortuna spettro maledicto